e andiamo! e andiamo! be come bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video so coglione di un cazzo di coglione! ma è ovvio! deficiente di un coglione! e quindi? di fortnite grande! gg! non ho parole! non no! e come? ti incula? vediamo come ti incula? le come? tre! lecca i buchi dai culi! la sai? m e la? queste minchiate! perchè queste minchiate? perchè queste minchiate? non è la? no morire così! no! morire così! no! qualche ora fa? v come? possibile! e questo? e questo? r come? no vabbè raga così non ci siamo raga! no vabbè raga così non ci siamo raga! s come? tu cabello nel culo! t come? che tua madre? u com? v come? adesso vorrei sapere! adesso vorrei sapere! adesso vorrei fottutamente sapere! z come? zero! ecco l'alfabeto! ciao! Grazie a tutti.